a Bampeso siamo abituati nell'immaginario a pensare che le persone con origini straniere insomma facciano sempre gli stessi lavori gli stessi mestieri tu fai il fumettista qual è il tuo percorso beh io ho fatto tutte le scuole qua poi ho fatto liceo artistico e successivamente ho fatto architettura in realtà io sono un architetto ma fallito perché poi ho visto che fare il fumettista è più divertente però in realtà ho fatto anche il percorso un po standard che ogni tanto si aspetta in comune italiano da parte dello straniero perché tipo ho lavorato anche in campagna perché sono figlio di contadini e mio padre prevalentemente quando è arrivato qua in Italia ha lavorato sempre nel campo della viticoltura prima come operaio poi ha aperto una sua attività quindi in realtà conosco quel mondo lì però poi alla fine ho avuto dei genitori che mi hanno sempre spronato a continuare quello che era la mia passione farlo diventare poi successivamente un mio lavoro e così via ecco hai un canale youtube molto seguito e qui si parla al festival di discriminazione e di razzismo insomma ti è capitato di essere vittima di tutto questo sì sì decisamente però sul web si tende sempre a vedere le cose sempre un po' esasperate e quindi io quando quando mi rapporto a qualche il classico hater o la persona che mi insulta in modo cioè mi insulta razzisticamente tra virgolette no perché questa poi magari non si razzisticamente in realtà lo vedo sempre con gogliardia cerco di prendere a sorridere cerco di esorcizzare forse la cattiveria di queste persone in modo scherzandoci sopra e ridendo di questa cosa qua so che il razzismo è una cosa molto più seria e non magari scritte due frasi stupide sul web e poi ovviamente ci sono anche quelli un po estremi di persona dal vivo non l'ho mai ricevuto cioè atti di razzismo violenti però sul web tantissimo però era sempre gente che parlava a sproposito e io bisogna sempre dirgli sì poveretti va benissimo così state cercato sempre di riderci a sproposito